Leonardo Monteiro a Sanremo 2018 tra le nuove proposte e tu hai fatto un salto perché arrivi direttamente d'Aria Sanremo, giusto? Esatto, d'Aria Sanremo che è stato un percorso lunghissimo ma molto formativo, prima di tutto per i corsi che offre Aria Sanremo e quindi insomma interagire con persone che sono all'interno di questo ambiente da tanto tempo è un valore aggiunto e poi per la unicità che si crea con tutte queste persone che rincorrono un sogno, musicisti, talenti, cantautori, insomma è stato bellissimo. Noi ti abbiamo conosciuto come ballerino, no? Una decina di anni fa ad Amici e adesso ti ritroviamo come cantante però diciamo che la musica è sempre stata nella tua vita sin da piccolo, come mai hai aspettato così tanto per farci vedere cosa sai fare anche con la voce e con la musica? Beh diciamo che prima di tutto è una questione di sincronicità, insomma di occasioni che ti capitano nella vita, io ho sempre cantato anche ballando poi a un certo punto della mia vita avevo raggiunto il massimo che potevo nella soddisfazione come ballerino e quindi mi sono avvicinato a quello che è il mondo del canto a New York, insomma lì ci sono un sacco di chiese gospel che offrono la musica gospel e mi sono innamorato di questo loro modo di venerare qualcosa di più grande attraverso la musica e non l'ho più abbandonato, insomma ho sempre voluto cantare nel mio piccolo La tua canzone a proposito di questo si chiama Bianca, parla d'amore, di un tradimento però di un amore che comunque continua, no? Esatto, parla di un amore, di un tradimento e di un amore che continua, insomma spesso una relazione può finire ma se l'amore è vero dura per sempre quindi quando le ferite si rimarginano c'è sempre tempo di ricordare una storia finita male e magari un giorno veramente incontrare una vera anima gemella quindi un messaggio di speranza all'amore Senti, a proposito di speranza abbiamo letto che hai avuto un'infanzia un po' difficile, sei stato costretto ad allontanarti dai tuoi genitori, insomma molto presto questo secondo te ti ha aiutato nella tua arte a prescindere dal ballo, dalla musica, ci si attacca insomma a un'arte, a una passione per andare avanti con gioia, insomma? Beh è stata un'esperienza molto particolare, insomma secondo me l'affetto dei genitori è sempre importante specialmente in un'età quando sei molto piccolo vivevo in una comunità educativa dove purtroppo vieni subito etichettato come il ragazzo che vive in comunità nel mio caso ho ricevuto un po' di bullismo, infatti questo posso anche fare a tutti i ragazzi che ricevono un bullismo dico sempre chiedete aiuto che ci sarà sempre qualcuno che vi può aiutare, insomma volevo scappare da quella realtà un po' particolare che non mi piaceva per qualcosa di più grande non che in comunità mi trattassero male, era tutto quello che era intorno a un ragazzo che vive all'interno di una comunità educativa Cosa ti aspetti per chiudere da questo Sanremo? Come ti trovi qui in questa barahonda? Beh devo dirti che in questo momento sono abbastanza approvato da questa giornata che è stata molto lunga ma molto eccitante Non ho aspettative, nel senso che voglio salire sul palco, esprimermi al massimo le mie emozioni attraverso la musica spero che il pubblico le senta con me, se arriva qualcosa di più io sarò felicissimo A questo punto ci viene una curiosità, se ti proponessero di fare anche l'attore dai chiudiamo il cerchio Chiudiamo il cerchio, è uno dei miei sogni fare un film, fare qualcosa del genere